La nostra azienda è felicissima di sponsorizzare l'evento del MAP Festival che si terrà a Taranto quest'estate. Inoltre la nostra è un'azienda che può vantare sul territorio 100 anni di storia nell'ambito vitivinicolo, siamo una delle pochissime aziende. Siamo felici di promuovere il passaggio tra il passato, il presente e il futuro in questa Taranto che vuole cambiare. E quindi ci sembrava uno degli eventi migliori perché parliamo comunque di arte, quindi sponsor di arte e di cultura. Tant'è vero che abbiamo una delle nostre etichette dedicata agli ori di Taranto che si chiama appunto Schiaccianoci.